Qualche considerazione su il crash di Whatsapp di ieri sera, panico, panico mondiale, non vi preoccupate, tutto il mondo è andato in panico, molto divertente, chi come me si è divertito a prendere in giro sui vari cosi, Twitter è stato fantastico quando succedono quelle cose, andate su Twitter perché l'unico motivo per cui c'è Twitter è quando succedono quelle cose, veramente molto divertente. Volevo fare qualche considerazione, il panico, qualcuno non capisce perché c'è stato il panico. Whatsapp serve esclusivamente per una cosa, perché sennò ci sarebbe Facebook, Messenger, tante altre cose, Skype, tante altre cose similari. Serve per poter scrivere a delle persone alle quali non puoi telefonare, capito? No? Avete capito la piccola sottigliezza? Non è che non va Whatsapp allora telefonategli e non possono telefonargli perché se potessero telefonargli non userebbero Whatsapp. Al di là della comodità io lo uso con mia mamma, con mio figlio, con la fidanzata, con chiunque, lo usiamo per il lavoro, ci scambiamo immagini, cose. Per fortuna sono presenti in pochissimi gruppi di Whatsapp, per fortuna non sono una mamma, quindi non faccio parte dei gruppi delle mamme di scuola, sono veramente fortunato in questo, assolutamente. E poi vabbè, ho la fortuna di essere in pochissimi gruppi, li ho silenziati tutti, ogni tanto quando vedo le notifiche vado a vedere come gli esseri umani. Però Whatsapp serve proprio a quelli che non possono telefonare, no? Perché tanto i video, le foto, quelle cose un po' hard, se le si può mandare via mail, se le può mandare in migliaia di modi e volendo non ti becca neanche nessuno. Ma quando devi sentire l'altra persona. E non puoi chiamarla, perché c'è il marito, la moglie, fidanzata, fidanzata, e che fai? C'è Whatsapp. Questo è il panico Whatsapp, esclusivamente questo. Quindi tranquilli, se non avete amanti, cose, o come diceva l'altra sera uno, se manco non vi siete accorti perché neanche vostra madre su Whatsapp vi manda un messaggino, va bene, pazienza, cercate di capire quelli che si sono disperati, no? Comunque è tornato Whatsapp, tranquilli.